buongiorno Cristian come stai? Buongiorno tutto bene tutto bene tu? Bene bene alla grande ricordiamo che tu sei parte di Expert Napoli che si trova in piazza Cavour dove c'è la metropolitana e dove vendono anche le pendrive Kingston. Non ho più nulla da dire sull'ubicazione perché già hai spiegato tutto tu ti ringrazio. No ma figurati è un piacere anzi aspetta voglio aggiungere che proprio ragazzi a Commasci tra metropolitana di via di piazza Cavour sa proprio di non potete non vederli vedete questa sorta di arancione si è piccirille sui portual che vengono frutto a io se è grande sono i miei amici bene 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 Cristian però facciamo una bella cosa parliamo subito di queste grandi offerte incredibili e soprattutto mostraci questo prodotto che hai lì. Oggi sono qui per spiegarci uno dei nostri prodotti uno delle nostre colonne portanti per quanto riguarda la telefonia si parlo della pellicola protettiva sbs che cos'è insomma è una pellicola protettiva per il cellulare che viene applicato con questo macchinario che ho già caricato con tutti i marchi più famosi di cellulare che taglia su misura praticamente queste pellicole diciamo che ce ne sono moltissime ti parlerò in particolare di questa qui che è l'iron che è quella più diffusa tra le pellicole che cos'è è una pellicole semplicemente protettiva e antigraffia sul cellulare a due particolarità che che è auto rigenerante nel senso che i graffi possono auto rigenerati col tempo e in più non sei attrito tra il telefono e le dita di conseguenza è come se praticamente non ci pote sulla superficie del display del telefono fantastico semplicemente è una lega in un materiale simile silicone come se fosse invisibile infatti ti mostro un telefono su cui questa pellicola è stata applicata è come se non ci fosse è un prodotto molto particolare anche molto protettivo quindi praticamente presso che per tutti i modelli e marchi basta che vengono lì ad expert e voi offrite questo servizio viene applicata a mano dai nostri effetti no ma questa è una cosa fantastica guarda ti giuro che verrò lì a piazza cavuro solamente per mettere la pellicola al mio cellulare caro sembra del riuscasse sempre ovviamente scherzi a parte ragazzi oltre questo servizio che è un po una chicca vi trovate velo fate anche perché sono veramente prezzi irrisori vi ricordo che tutti i prodotti del gruppo expert campania quindi napolino electronics parente somma e mallardo vi offrono le migliori offerte che tra le altre cose potete vedere anche sul volante in alcuni periodi come in questo qui offremmo anche la possibilità ai nostri clienti di pagare in comode rate che possono essere 10 studenti o addirittura 30 rate bello siccome non si sa come un baffini voglio facere 30 rate può essere capisparagnato come Bob Dylan grazie Cristian un abbraccio grande a te buona giornata